Musica Gratta e vinci rubato, arrestato il tabaccaio, sarà chiuso in carcere Gaetano Scutellaro, il negoziante napoletano che tentava di prendere un volo per Tenerife dopo aver sottratto un biglietto vincente da 500.000 euro ad un'anziana signora. La Procura ipotizza i reati di furto pluriaggravato e tentata estorsione. Covid-incidenza in calo, ma 11 pazienti sono morti, scende sotto il 2% la curva dei contagi, ma in campagna si registrano altre vittime. Via, agli open day vaccinali per tutta la settimana, da De Luca appello agli studenti, vaccinatevi, la sicurezza è una priorità. A 16 schianto con la moto, lui muore, lei non è grave, marito e moglie viaggiamo in direzione Napoli, l'incidente tra Vallate e Grotta Minarda. L'uomo, 67 anni, è morto sul colpo, lei, 61, non è in pericolo di vita. Forse un malore alla base dello schianto. Comunali, Conte e Fico a Napoli per Manfredi, l'ex premier lancia la volata al candidato sindaco e rassicura i percettori di reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle non permetterà l'abrogazione della misura, dalla Meloni campagna vergognosa, ma i grillini si spaccano. Benevento è scontro verso le amministrative, Perifano arriva in preoccupante ritardo con la proposta delle case di comunità che sono già in realizzazione. I Mastelliani attaccano il candidato di alternativa per Benevento sullo sviluppo di una sanità di prossimità. Salerno incubo Covid, nuovo focolaio ad Eboli, altri 21 infetti in sole 24 ore, preoccupa il cluster sviluppatosi nella Piana del Sele dopo una festa in pizzeria. 69 in totali positivi al Covid nel comune e intanto parte l'operazione Scuola Sicura. Questi titoli di stasera ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura è stato arrestato Gaetano Scutellaro, il tabaccaio fermato a Fiumicino, mentre tentava di prendere un volo per Tenerife dopo aver rubato un gratta e vinci vincente da 500 mila euro a un'anziana. Vediamo il servizio. Sarà chiuso in carcere Gaetano Scutellaro, l'uomo fermato all'aeroporto di Fiumicino, mentre tentava di prendere un volo per Tenerife. Dopo aver sottratto un biglietto gratta e vinci vincente da 500 mila euro a un'anziana signora di Napoli, nei suoi confronti il sostituto procuratore e il procuratore aggiunto di Napoli, Pierpaolo Filippelli, hanno emesso un decreto di fermo ipotizzando nei suoi confronti i reati di furto pluriaggravato e di tentata istorsione ai danni della donna. Scutellaro è stato individuato dai militari dell'arma sull'autostrada 1 a bordo della sua auto, mentre viaggiava in direzione Napoli. L'uomo verrà successivamente accompagnato dai carabinieri al carcere di Santa Maria Capoavetere. L'uomo nel momento in cui è stato fermato ha tentato di difendersi, rigettando le accuse. Il biglietto è mio, avrebbe detto. Intanto il tagliando è stato sequestrato in via precauzionale. L'uomo aveva aperto un conto in un istituto di credito a Latina e depositato lì. Il tagliando è vincente. Ha avvertito la polizia, la banca. Ha confermato l'apertura del conto. Ma non avrebbe potuto incassare la vincita l'uomo perché l'agenzia dei monopoli ha immediatamente provveduto a bloccare la vincita. Secondo quanto riferito, Scutellaro aveva intenzione di lasciare Napoli e l'Italia perché a causa della vincita non si sarebbe sentito sicuro. Ma la fuga col biglietto è costata al tabaccaio. Ha anche la sospensione della concessione rilasciata dai monopoli per chi al terminale di validazione lavora un soggetto collegato da un rapporto di parentela con il titolare. Ora il Covid scende sotto il 2% alla curva dei contagi, ma in Campania si contano altre 11 vittime. Da De Luca appello agli studenti. Vaccinatevi. Vediamo. Covid in Campania cala la curva del contagio. Nell'ultimo bollettino sono infatti 196 positivi registrati con l'incidenza che scende al di sotto dell'1,9% a fronte di oltre 10.000 test eseguiti. Ma c'è anche l'altro lato della medaglia con ben 11 vittime registrate, di cui 9 nelle ultime 48 ore e altre 2 ricalcolate nei giorni precedenti. In calo invece le terapie intensive e le degenze. Intanto riparte la campagna vaccinale con gli open day in tutto il territorio dell'Asla Partenopea. Alla fagianeria di Capodimonte, alla mostra d'oltremare e alla stazione marittima si può accedere per tutta la settimana senza prenotazione. E Federpharma ha snocciolato i numeri della campagna di immunizzazione nelle farmacie. 20.000 finora le dosi somministrate si punta ad allargare ulteriormente la platea. Ma a tenere banco e soprattutto la scuola. Da Vincenzo De Luca, a margine di un evento a Salerno, il nuovo appello ai ragazzi a vaccinarsi prima del rientro in classe. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per vaccinare gli studenti. Abbiamo ascoltato ieri l'appello appassionato del Presidente della Repubblica. Ma come si fa a non capire che vaccinarsi tutti serve a riprenderci la vita, come diciamo noi, e a tenere aperta l'economia nel nostro paese per evitare di dover chiudere fra due mesi bar, ristoranti, fabbriche, attività commerciali. Se vacciniamo anche la popolazione studentesca, allora davvero potremo avere un anno scolastico in grande serenità. Marito e moglie si schiantano con la moto in autostrada. Lui, 67 anni, muore sul colpo. Lei, 61, rimasta ferita ma non grave, trasportata in ospedale ad Ariano Irpino. La coppia originaria di Formia viaggiava sulla A16 in direzione Napoli. Lo schianto mortale è avvenuto tra Grotta, Minarda e Vallata. Sul posto, la stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente, non si esclude un malore improvviso al conducente della moto. E ancora, cronaca, ha corrotto un funzionario dell'Agenzia delle Dogane di Napoli, distaccato a Benevento per fare in modo che si occupasse delle pratiche di rimborso delle accise presentate dall'azienda per la quale lavora. E' l'accusa che la procura di Napoli contesta un 49enne dirigente di fatto di un'azienda di San Gennaro Vesuviano che si occupa del recupero e dello smaltimento di materiale plastico. Nei suoi confronti, il GIP di Napoli ha emesso un provvedimento cautelare, arresti domiciliari, notificato oggi dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Analoga misura cautelare è stata emessa anche nei confronti del funzionario dell'Agenzia delle Dogane. Cambiamo argomento verso le comunali. A Napoli prima tappa del tour di Giuseppe Conte, l'ex premier che lancia la volata al candidato sindaco Gaetano Manfredi. Vediamo. Bagno di folla per Giuseppe Conte e Roberto Fico che da Napoli rilanciano la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi. Quello di Napoli è un laboratorio unico in Italia, la sola grande città dove PD e 5 Stelle sono alleati per le amministrative. Per Conte è anche un'occasione per confermare la sua leadership a capo del movimento al fianco del presidente della Camera. Proprio nella città in cui i 5 Stelle conservano grande consenso anche grazie al reddito di cittadinanza. E Conte difende la misura voluta dai grillini contro gli attacchi di Giorgia Meloni. Questi giorni in Italia si è levata una campagna vergognosa contro il reddito di cittadinanza. L'ho dichiarato adesso, io trovo vigliacco, trovo folle che persone, esponenti politici, peraltro che hanno trattamenti economici privilegiati, vengano e pretendano di approgare una misura di civiltà nei confronti di chi non ha nulla. A Napoli il Movimento 5 Stelle non è spaccato, assicura Fico. I dissidenti dei 5 Stelle con Matteo Brambilla hanno costituito una lista a parte per le comunali. Abbiamo fatto un lavoro faticoso, io credo un ottimo lavoro e con questo ci muoviamo per prospettive anche future. La spaccatura a Napoli dei 5 Stelle, c'è Brambilla candidato, la preoccupa? Bocca al lupo. Ma intanto proprio oggi dal capoluogo partenopeo parte la prima offensiva legale contro il voto che ha eletto Conte, leader del Movimento. E un gruppo di attivisti della prima ora ha impugnato, oltre allo statuto, anche la votazione con cui Conte è stato incoronato presidente dei 5 Stelle. Il voto a Benevento per Ifano arriva in preoccupante ritardo con la proposta delle case di comunità che sono già in realizzazione. I Mastelliani attaccano il candidato sindaco di Alternativa per Benevento sullo sviluppo di una sanità di prossimità. De Lucia. Dispiace constatare come anche su questioni importanti per la salute dei cittadini di Benevento, il candidato sindaco di Alternativa per Benevento arrivi in preoccupante ritardo. È l'attacco dei Mastelliani a Perifano che nella presentazione del suo programma aveva incluso per le politiche sanitarie una casa di comunità al rione Libertà. Sicuramente, commenta ancora la segreteria di Noi Campani, in questi anni è stato impegnato in altre faccende, ma se fosse stato più attento si sarebbe accorto che le case di comunità sono servizi per i quali il comune di Benevento insieme all'ASL sia già da tempo attivato. L'iter per la loro istituzione è stato avviato mesi fa e appena lo scorso 20 luglio nell'Assemblea dei Sindaci, presieduta proprio da Mastella, i vertici dell'ASL ne hanno anticipato caratteristiche e future dislocazioni. È dal Forum dei Giovani riunito per la prima Assemblea un appello ai candidati. Per quanto riguarda le politiche giovanili noi chiediamo un'attenzione ai programmi seria, che guardi soprattutto, come è stato detto, al mondo del lavoro. La disoccupazione giovanile è un tema che noi abbiamo già affrontato. Immaginiamo di creare un desk per l'incrocio tra l'offerta e la domanda nel mondo del lavoro giovanile. Questo è un impegno che è già calendarizzato e sul quale stiamo lavorando. Torniamo sul Covid, andiamo nei territori ad Avellino. Flop delle vaccinazioni e aumentano i positivi. Cinque pazienti Covid ricoverati all'ospedale Moscati. Domani il camper della salute per i vaccini al mercato di Campo Genova. Vediamo. Dopo i tamponi Campo Genova ospita domani anche i vaccini. Farà tappa nell'area mercatale di Avellino il camper della salute. Tutti i cittadini potranno accedere alla vaccinazione senza bisogno di prenotazione, anche se non iscritti sulla piattaforma regionale. L'obiettivo è completare la vaccinazione dell'intera popolazione irpina, raggiungendo gli avellinesi nei luoghi maggiormente frequentati, afferma il direttore generale dell'Asla Maria Morgante. Abbiamo moltiplicato e diversificato l'offerta con gli Open Day quotidiani e i camper, in modo da raggiungere in maniera capillare l'intero territorio e i luoghi a maggior affluenza di persone. Ma cresce il rapporto tra tamponi e positivi. Oggi sono 17 nuovi casi in Irpinia su 245 test e ieri si è registrato un numero bassissimo di vaccinazioni. Intanto è polemica sui buoni libro per la ripartenza scolastica. Renato D'Argenio, storico commerciante avellinese, avverte diffidate da internet, spesa sicura, solo in negozio. Perché prima di tutto uno sceglie quello che compra e poi comunque per quanto mi riguarda dei controlli effettuati su internet si paga un 20-30% in più. E poi non è vero che facciano uno sconto del 15% sui libri. Anzi, ci sono tante librerie di Avellino che praticano uno sconto onesto e da valutare. Quindi, diciamo, tutto quello che si dice sono sciocchezze. Come vi state preparando a questa ripartenza scolastica? Con tutti i buoni propositi. Speriamo che si parta bene. Le scuole sono abbastanza organizzate. Sendo che i trasporti lo stesso. E quindi ci auguriamo tutti che tutti questi due anni ce li teniamo alle spalle e si va avanti. Nel Salernitano altri 21 infetti in sole 24 ore a Eboli. Preoccupa il focolaio sviluppatosi dopo una festa in pizzeria. Sarabotte. Nel Sannio, purtroppo, continua a salire il numero delle persone ricoverate a causa dei sintomi severi del coronavirus. Salgono infatti a 10 dei genti presso i reparti dedicati all'interno dell'ospedale San Pio, dove attualmente ci sono 5 persone in terapia subintensiva, ovvero che hanno bisogno del supporto respiratorio e 5 malattie infettive. Nessuna dimissione è stata registrata nelle ultime 24 ore e resta immariato a 327. Il numero complessivo delle vittime registrate a causa del coronavirus nel nosocomio Sannita. Proseguita per tutta la giornata di oggi la campagna vaccinale, che durerà fino a venerdì, anche senza obbligo di prenotazione, grazie all'ennesimo Open Day organizzato dall'Asla di Benevento. Buona la risposta dei più giovani, anche in mista della riapertura delle scuole e delle persone che ancora non si erano vaccinate, anche per via della positività al Covid. Sono stata positiva al Covid, quindi ho atteso i miei tre mesi di obbligo, diciamo, per poterlo rifare, per poter fare il vaccino. Purtroppo sta diventando obbligatorio e comunque si deve fare, pure per andare a scuola o qualsiasi cosa. Io sono anche un'insegnante, quindi la speranza è quella di stare in presenza, perché in DAD, soprattutto lei fa le medie, non è stato proprio un anno buono. Questo era il punto nel Sannio, nel servizio di Alessandro Fallarino. Adesso ascoltiamo invece gli aggiornamenti Covid dal Salernitano. Vediamo. A prensione nel Salernitano, dove non si fermano i focolai, a eboli in 24 ore altri 21 nuovi positivi. Nel mirino i contagi sviluppatisi dopo una festa in pizzeria. Nella cittadina gli infetti salgono a 69, intanto l'ASD Salerno ha comunicato in una nota che da domani alvia l'operazione scuola sicura. Per un mese tre unità mobili di vaccinazione stazioneranno davanti alle scuole per inoculare il siero agli studenti over 12, genitori, docenti e personale scolastico. L'accesso sarà libero senza prenotazioni. Si parte da nocere inferiori e pagani. Le scuole interessate potranno candidarsi iscrivendo all'ASL. Intanto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sta procedendo con gli incontri negli istituti cittadini. Sto incontrando doverosamente tutti i dirigenti, abitudine che ho sempre rispettato nel corso degli anni, ogni anno. Abbiamo verificato una grande disponibilità, un grande entusiasmo da parte anche dei dirigenti che si sono avvicendati. Ho la speranza di credere che potrà essere un anno scolastico sostanzialmente normale e che già mi pare un grandissimo traguardo stando le vicende della pandemia che ci hanno afflitto gli ultimi due anni. Non solo il Covid crea preoccupazione nel Salernitano. Paura all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove questa notte una ragazza di 17 anni è precipitata dal quarto piano. La giovane è di origine indiana, ma da anni residente a buon abitacolo era ricoverata nel reparto di medicina. Poco dopo la mezzanotte si sarebbe lanciata nel vuoto. Dopo aver lasciato un biglietto ai familiari, le sue condizioni sarebbero critiche. Ad Avellino primo consiglio comunale dedicato al bilancio, ma è scontro con le opposizioni che chiedono al prefetto di annullare la seduta odierna. Vediamo. Riprendono i lavori del consiglio comunale di Avellino. Dopo la lunga pausa estiva, si affronta lo scoglio del bilancio di previsione del rendiconto di gestione. Ma è subito scontro con i consiglieri di opposizione che disertano l'aula e scrivono al prefetto. L'accusa è di non aver potuto partecipare al consiglio a causa della mancata consegna della convocazione. Il sindaco Gianluca Festa smentisce in modo più assoluto la versione della minoranza e assicura che è tutto regolare. È un déjà vu, film già visto, anche in altre occasioni l'opposizione ha evidenziato questo aspetto e come la scorsa volta noi riteniamo che tutto sia regolare anche perché c'è un segretario che attesta la legittimità delle convocazioni e la correttezza, regolarità dello svolgimento dei lavori. Invece la buona notizia è che oggi abbiamo discusso del piano di rendizione dei beni. È un passaggio che ci consente di accelerare quello che è il recupero del debito che negli anni ha contratto il Comune. Si va avanti dunque con la discussione sul bilancio. L'obiettivo è uscire dalla fase di predissesto per sbloccare progetti e investimenti. Noi sicuramente non si offriamo del problema dell'approccio del bilancio ma della mancanza di fondi. Sono due questioni diverse. A noi mancano i soldi. Il presidesto oggi ci mette nelle condizioni di avere somme esigue con le quali dobbiamo amministrare una città e quindi alcuni problemi oggettivamente derivano da questa situazione e non da altre. L'altro passo in avanti per l'aeroporto di Salerno avanza la fase progettuale e il cantiere per il decollo dello scalo. Sentiamo. La regione ha investito complessivamente un miliardo e mezzo di euro per le infrastrutture di Salerno dopo decenni di abbandono e nel computo a fare la parte del Leone e il piano per rendere il Costa d'Amalfi il secondo aeroporto della Campania dopo Napoli. All'Hotel Mediterranea Vincenzo De Luca incontra il territorio e rivendica il cronoprogramma degli interventi per quella che viene definita un'opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo di Salerno e non solo. Certamente la fusione con Gesac è stata determinante perché ha dato quella credibilità economica al progetto che consente oggi di vedere questo come veramente il secondo scalo della Campania in una regione che ha nel turismo soprattutto delle grandi opportunità e quindi l'aeroporto di Salerno e Ponte Cagnano potrà contribuire a investire su questo tema, sul turismo. Ora siamo nella procedura di realizzazione dei lavori della pista prima fase a 2000 metri, poi arriveremo nella seconda fase a 2200 già autorizzate nel Massapan, questo è molto importante da precisare è stata conclusa la fase di scelta del progettista per l'aerostazione quindi veramente siamo alle battute iniziali per concretizzare questo grande progetto che questa città aspetta da vent'anni. L'iter burocratico per lo scalo dunque prosegue da superare anche le incognite legate agli espropri anche se la regione è fiduciosa che si possa chiudere la partita nel giro di pochi mesi. In questa fase c'è una dialettica tra gli uffici di Gesac e i privati che sicuramente andrà a buon fine, loro stimano nell'arco di tre mesi di chiudere tutte le procedure di esproprio e quindi avere tutte le aree a disposizione per iniziare a pieni lavori. Traffico bloccato e caos nei pressi della stazione ferroviaria di Benevento da quando sono state quadruplicate le linee ferroviarie ad alta velocità di Italo e Frecciarossa. Aviamo il servizio. Bus sostitutivi in oggettiva difficoltà nell'effettuare le fermate e le manovre dinanzi alla stazione ferroviaria centrale di Benevento a causa delle tante auto in sosta in attesa dei numerosi treni ad alta velocità che ormai da tre mesi fanno scalo nel capoluogo Sannita. A questo si aggiunge la chiusura per lavori della variante di via Grimoaldo-Ri. Lavori terminati ma la strada continua a restare chiusa. Ora il sindacato Fast Confsal chiede con una nota firma del segretario generale Vincenzo D'Amelia maggiori controlli. È una rapida risoluzione rimarcando la necessità di un terminal bus a ridosso proprio della stazione centrale. D'Amelia ha ragione perché di fatto quell'area purtroppo ha una condizione disastrata perché fare una piazza così grande con quella fontana è stato come dire insomma un azzardo. Ci sarà la riorganizzazione e la ristrutturazione del fabbricato viaggiatore della sede ferroviaria. Vicino alla stazione ferroviaria avverrà il terminal bus di tutti gli autobus urbani ed extraurbani. Ci sarà come dire una sorta di rotonda che consentirà ai taxi, agli autobus, alle auto di poter giungere in quella stazione. Non solo lavori a Rione Ferrovia ma anche in altre zone della città dove saranno apportate importanti modifiche al traffico. Abbiamo già individuato ed è in atto l'intervento sul McDonald's perché il piano della mobilità così come dicevamo noi andrà a poter concentrare degli interventi specifici su determinate aree della città. Nuovi arrivi di profughi afghani ad Avellino. Questa mattina verifiche in una struttura nella zona di Piano d'Ardine. Simone Tagliaparello. Nuove case per i rifugiati afghani ad Avellino scende in campo. La Caritas diocesana, due alloggi individuati, nella casa Nicodemi di via Piano d'Ardine del capoluogo e messi a disposizione della prefettura. Le case di Avellino vanno ad aggiungersi a quelle già messe a disposizione dalle amministrazioni di Montoro, Solofra e Serino. Altri 40 i profughi già accolti tra Fontana Rosa, Santa Paolina e Sant'Angelo dei Lombardi. Qui ci sono il casa Nicodemi che solitamente accoglie le famiglie italiane in difficoltà. Ecco ci sono due appartamenti che l'ufficio famiglia è stato ben lieto di mettere a disposizione. La prefettura stamattina è venuta a vedere questi appartamenti, decideranno se sono idonei e poi assegneranno delle famiglie a queste strutture. Troveranno in noi la disponibilità e la possibilità di essere accolte, accompagnate e sostenute da me come direttore ma da tutta l'equip che lavora qui accanto a me per sostenere e promuovere il benessere della famiglia. Il messaggio fondamentale è che la famiglia aiuta la famiglia e soprattutto che nessuno è così povero che non può aiutare nessuno. Anche questo centro che è collocato nella periferia della città diventa quindi sorgente di nuova vita per la vita qualsiasi forma essa possa assumere, in qualsiasi religione soprattutto essa viene professata. Noi siamo qui disponibili ad accogliere queste persone che fuggono dalla loro tristissima realtà e troveranno sicuramente in noi un calore familiare, un'accoglienza, una struttura che possa ridare loro nuova vita e nuova speranza a queste persone. Ed è nata in queste ore la prima caretta caretta del nido di Salerno, Fiocco Rosa per Imma, nome scelto in onore della titolare dello stabilimento che ospita la nidiata. Vediamo. Un Fiocco Rosa per cerebrare la nascita della caretta caretta Imma, la prima tartaruga nata dal nido che si trova sulla spiaggia tra Mercatello e Passena a Salerno. Il nome è quello della titolare dello stabilimento Colombo che sta ospitando dallo scorso luglio le uova deposte in città per la prima volta da una caretta caretta. Tanta attesa per le prossime schiuse a vigilare i volontari che parlano di un evento straordinario. È la prima volta, è la prima volta pure in una città così grande. Probabilmente pensiamo che la tartaruga aveva necessità e urgenza di depurre l'uo perché normalmente loro scelgono delle zone meno antropizzate, dove non c'è luce perché poi la luce distrae i piccoli quando devono andare al mare. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere unito qui nella nostra città e come associazione Natural Arti fa parte del coordinamento regionale gestito poi dalla stazione zoologica Anton Dorn, Tartal Point di Portici, seguiamo la schiusa del nido, coadiuvati da un biologo sempre della stazione zoologica. Occasioni che coinvolgono tanto i bambini, così l'associazione ha pensato a delle illustrazioni esplicative. L'idea del fumetto è venuta l'anno scorso sul nido di Eboli che avevamo individuato durante il monitoraggio, che facciamo tra giugno e luglio e i tanti bambini chiedono informazioni e domande. Quindi l'idea è di fare questo fumetto con la collaborazione di un bravo fumettista salernitano, Salvatore Criscuolo, che ci ha regalato delle tavole e noi abbiamo utilizzato per confezionare questo piccolo Deplian. Ed è tutto per questo TG curato in regia da Enrico Coppola. Vi ricordo tra poco già il prepartita di Napoli-Benevento dal Maradona e poi alle 21 la telecronaca. Buona serata, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.